Nuova perturbazione in arrivo, allerta a meteo gialla fino a giovedì. Giovedì 10 ottobre in Veneto è previsto un veloce impulso perturbato, la cui entità risulta piuttosto inferiore a quella di marcentro settentrionali di intensità moderata o a tratti forti per rovesci anche temporaleschi, con quantitativi consistenti e localmente anche abbondanti sulle prealpi, fenomeni più irregolari e discontinui sulla pianura centro-sud, quantitativi assai inferiori ma con possibilità di qualche rovescio temporale. Da metà pomeriggio tendenza ad attenuazione e cessazione dei fenomeni a partire da ovest, salvo possibilità di qualche precipitazione residua in serata specie a dest, limite neve in appassamento da 3.000 a 2.500 o 2.600 metri nella seconda parte della giornata. Alla luce di queste previsioni il centro della protezione civile Veneto ha emesso un nuovo avviso di criticità, valido dalle 14 di oggi, 9 ottobre fino alle 18 di domani 10, in cui si segnala l'allerta arancione per criticità idraulica del bacino Adige Garda-Montilessini. Tale allerta è riferita al transito della piena sull'Adige ed è valida fino alle 20 di oggi. La piena del fiume interesserà nelle prossime ore la zona allerta del Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco-Basso-Adige, dove si attende un incremento dei livelli idrometrici dovuti al transito del colmo di piena. Nel resto dei bacini, eccetto Alto-Piave, Piave-Pede-Montano, stato di attenzione per criticità idrogeologica, gialla anche nei bacini, Alto-Piave, Piave-Pede-Montano, Alto-Brenta-Bacchiglione-Alpone-Adige Garda-Lessini. La gialla anche nei bacini, Alto-Piave, Piave-Pede-Montano, Alto-Brenta-Bacchiglione-Alpone-Adige Garda-Lessini.